Buongiorno a tutti, è stata con noi Ula Sincic dell'associazione sportiva Flip Viran dalla Slovenia nella categoria Individual Junior. E' ora la volta delle sovizze dell'associazione sportiva sovizze dalla Slovenia che è stata in pirata nella categoria Flip Viran dalla Slovenia. Per esempio, sovizze, la Slovenia è una categoria Freestyle e Fugio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.